Anticipazioni tempesta d'amore. Trama puntate. Sabato 27 novembre 2021. Max si rifiuta di aprire il suo armadietto davanti a Robert e Cornelia. Rosalie approva il progetto della costruzione dell'hotel termale. Il disboscamento dell'area forestale è imminente. Ariane e Eric si stanno avvicinando sempre di più al loro obiettivo. Cornelius e Maya hanno un'accesa discussione. Intanto, per non far preoccupare la ragazza, Christoph le assicura che Ariane non ha niente a che fare con l'avvelenamento di Selina. Allo stesso tempo si rivolge a Schulz per scoprire la verità. Vuole sapere da chi la Kallenberg ha ottenuto il raro veleno proveniente dal Sud America. Quando la Dark Lady viene a conoscenza di questo e Christoph è costretto a ritirarsi, il destino viene inaspettatamente in aiuto del Salfid. Max continua a tenersi gillato il suo armadietto. Poi si convince e il Salfid fa una scoperta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.